Con Alberto Berselli del gruppo progetto trasmissioni di Case New Holland parliamo del cambio Active Drive 8 montato su questo Maxum 125 che cosa ci puoi dire in proposito? Sì, allora siamo su questo trattore equipaggiato con questo cambio semi-powershift 24x24 con 8 marce powershift su 3 gamme sincronizzate e robotizzate. Questo cambio è l'ultimo nato in casa CNH ed è un po' il fior all'occhiello del segmento dei Maxum Multicontroller oltre ad avere le funzionalità automatiche di corrente produzione è stato integrato anche un potenziometro un nuovo settaggio che l'operatore può utilizzare per avere un motore più brillante o meno brillante nei cambi marcia e quindi a tutti i nostri amici che sono stati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.